oh mongi, mongi pochia, mongi, mongi parco di che mongi taglia uno aspetta, vediamo marietto che lo butta mario nel cento, mario i telespettatori vogliono sapere se al cento per cento o all'ottanta no, adesso all'ottanta eeeh porca troia mi piace così vediamo qua l'interessata cosa dice cosa pensi cosa pensi ti sei sempre un po' girato con le gambe aperte arriva da dietro vediamo il marietto che per una volta monta invece di essere montato attenzione al bello dilatazione ed entravo tutto il braccio bisogna dire bisogna dire che prima, seconda e terza il leon prende le palate attenzione, risentiamo questa cosa questa cara ha battuto del marietto prima, seconda e terza il leon prende le palate maia